Vado? Buongiorno ragazzi, allora a scuola la maestra dice ai bambini, voi con una linea retta dovete dargli un significato, una linea, un cerchio dovete dare un significato, tu Stefano, parti tu, allora Stefano, tagli il foglio e fa così, che cos'è? Signor maestra, questo può essere il terreno, può delineare il cielo, va bene, e tu Mirko, posso usare più di una linea? Sì, signor maestra, ho usato quattro linee, che cos'è? È una casa, va bene, e tu Rossella, se posso aggiungere ogni casa ci vuole una porta con tre linee. O te e tu, Michelangelo, signor maestra, stiamo vicino a Natale, sta nevigando con dei semicerchi, faccio la neve sul tetto, va bene? Va bene, ci può stare. O te e tu, Mirella, signor maestra, come stiamo a Natale, faccio la stella polare, la stella di Natale. Alza la mano, Pieri, no, Pieri, tu non puoi parlare, perché tu quando parli tu fai scritto cazzetta e tu ci strunzi, no, sì, ma è una casa in nuovo, con il terreno, che cosa posso, posso fare anche io? Mi raccomando, Pieri, sì, sì, però, e Pieri, fa così. O che cos'è questo? Per me, ottenziarmi da queste caghe! O che cos'è questo?